Stante buone! Sì? Mi chiamo Anthony di Nozzo, signora Mallard. Lavoro con suo figlio. Le ha detto che sarei venuto? Lei è italiano? Sì, signora. Lei è un gigolò? Ah, no, non esattamente. Io... Allora è un traslocatore. A volte. C'è un mobile qui che non serve a niente. Starebbe meglio nel salotto. L'ho detto a Donald, non mi ascolta mai. Ho capito. Ok, se mi fa vedere dove vuole che... Chi è lei? Anthony di Nozzo. Ma mi chiamano tutti Tony. Questo è un nome italiano? Sì, allora se mi fa vedere dove... Oh, è un gigolò. Le giuro che la sbodello. Se guarda nella mia scollatura. Divertente. Ho un coltello nel reggiseno. Me lo ricorderò. Bene. Ma lei chi è? Milderà! Noi.